Conclusioni. La ripresa è una cosa negativa, non positiva, come viene invece dato per scontato nell'immaginario popolare. La ripresa ciclica è il seme della decrescita e della devastazione, non solo economica ma anche umana. Abbiamo bisogno invece di crescita strutturale, la ripresa ciclica è invece il modo per non avere la crescita strutturale. In un bell'articolo Guglielmo Piombini ha spiegato le conseguenze che l'espansione artificiale del credito ha anche a livello psicologico sulle persone. L'avvento di Hitler al potere fu causato soprattutto dal caos morale generato dall'iperinflazione che colpì la Repubblica tedesca di Weimar. La distruzione del valore della moneta causata dalla dissennata politica monetaria di quei governi sconvolse la convivenza sociale e le norme morali. Chi per 40 anni aveva risparmiato diventò un mendicante, chi era carico di debiti se ne trovò liberato. Chi si atteneva alle regole moriva di fame e chi corrompeva era sazio. L'umanità rinunciò alla civiltà millenaria del denaro. L'umanità regredì con le trincee sino all'età delle caverne, si riferisce alla prima guerra mondiale, ma questa avvenne proprio a causa del fatto che rinunciò alla civiltà millenaria del denaro. Infatti il gold standard, la civiltà millenaria del denaro, fu abbandonato nel 1914 per finanziare la prima guerra mondiale attraverso la tassa invisibile dell'espansione artificiale del credito. Se il gold standard fosse stato mantenuto, cioè se il denaro non fosse stato sostituito col denaro fiat, la prima guerra mondiale e quelle successive non avrebbero potuto aver luogo. Infatti per finanziare le guerre i governi avevano necessità di inflazionare la massa monetaria. Lo standard aureo glielo impediva, così i politici e banchieri centrali lo impedirono per decreto. La stragrande maggioranza delle persone, inclusi molti professori universitari di economia e ministri dell'economia, non conosce la scienza economica. E questo nasconde il comportamento criminale del potere politico totalitario, quello democratico, Virindelli lo definisce totalitario perché arbitrario. Aiutato dalla stampa mainstream, questo potere politico ha trasmesso il messaggio che la ricchezza può essere creata con una stampante o con un tasto di computer, cioè con l'inflazione monetaria. Coloro che oggi costituiscono una forma di dissenso monetario, no euro, no austerità, i sovranisti chiedono un aumento dell'espansione artificiale del credito ancora maggiore. Vogliono uscire dall'euro per esempio per avere ancora maggiori possibilità di inflazionare il denaro fiat. Mises si richiamava inflazionisti radicali. Non gli puoi parlare di abolizione del denaro fiat a corso forzoso, cioè di ritorno al denaro e alla libertà monetaria. Non gli puoi parlare dell'abolizione della banca centrale e dell'abolizione della riserva frazionaria. Nella loro opinione la scarsità è creata dai limiti artificiali all'espansione del credito e della quantità di denaro in circolazione. Essi raccomandano una spesa pubblica illimitata. Questo è il mito dell'abbondanza sconfinata. Del resto tutti gli intellettuali e anche gli economisti sono formati in università pubbliche dipendenti dallo Stato e la scuola austriaca di economia è bandita da ogni università. In campo economico l'opinione pubblica si forma sullo scientismo economico promosso dagli stati totalitari e diffuso dai media mainstream e da quasi tutte le università, cioè si forma sulla negazione della scienza economica correntemente intesa nel suo complesso come lo studio dell'azione umana. Tutte le generazioni crescono dentro la gabbia della manipolazione monetaria e del credito. Le persone non riescono a vedere questa gabbia. L'hanno interiorizzata così come hanno interiorizzato l'idea di legge che la rende possibile, cioè il positivismo giuridico. La stragrande maggioranza delle persone trova conforto nel fatto che questa autorità sia costituita da rappresentanti della maggioranza e vede questa come una differenza sostanziale rispetto alle dittature del XX secolo, come se l'espansione artificiale del credito potesse essere meno illegittima e i suoi effetti potessero essere meno devastanti quando vengono decisi dai rappresentanti di una maggioranza invece che da un dittatore. Non avendo mai vissuto la libertà queste persone non riescono a immaginarla e non oppongono alcuna resistenza alla propaganda statalista che per continuare a estendere il suo potere arbitrario confonde libertà e democrazia e le fa identificare mentre invece sono praticamente quasi una all'opposta dell'altra. Le persone confuse riescono a vedere solo i danni prodotti dal totalitarismo e non il totalitarismo. Generalmente danno la colpa al libero mercato o al capitalismo e invece i danni sono stati prodotti dall'assenza di libero mercato e dall'assenza di capitalismo.